Cala il numero dei contagi e anche quello dei ricoveri nelle ultime 24 ore in provincia. Sono 141 i pazienti positivi riscontrati, secondo il report inviato quotidianamente dall'Aspenissena, tutti in isolamento domiciliare. Sono 37 i pazienti di Caltanissetta, 34 quelli di Gela, gli altri suddivisi in tutti i paesi della provincia. Mentre per ciò che riguarda i ricoveri sono 42 i ricoverati all'ospedale Sant'Elia e nei presidi ospedalieri dove è previsto un reparto Covid. Non c'è nessun paziente ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Per ciò che riguarda il capoluogo sono 675 i positivi in quarantena domiciliare, 5 sono ricoverati, dunque un numero che si abbassa notevolmente. Mentre invece a Gela sono 8 i ricoverati in malattie infettive, mentre sono 710 i positivi.